Buona domenica a tutti ragazzi e bentornati alla nuova giornata del campionato dei minigames Oggi siamo su Black Ops 3 su PC e andremo a fare una modalità che non ho mai proposto qui sul canale Una modalità che sinceramente ho visto fare tantissime volte dagli americani E che mi ha sempre ispirato e mi ero ripromesso appunto di portare almeno una volta sul canale Sto parlando dell'anonymous Michael Mayer ecco l'hanno chiamata così diverse volte poi ognuno le dà il nome che vuole ecco Il regolamento è semplicissimo è il classico Michael Mayer dove io ho un coltello o devo ammazzare le persone che devono scappare Tranne l'ultimo che appunto mi può a sua volta uccidere ma è il tutto fatto utilizzando tutti lo stesso specialista con lo stesso vestito In tutti contro tutti di conseguenza siamo tutti uguali e nessuno sa chi è l'assassino a meno che non sia a un metro da lui tutto qui Un altro modo per capirlo è l'audio perché difatti io non ho silenzio di tomba mentre loro ce l'hanno quindi loro sentono i miei passi ma io non sento i loro Insomma una modalità un po' carina per far cagare un po' sotto i partecipanti La situazione attuale comunque è quella che vi sto mostrando ovviamente qui sullo schermo vedremo a fine appunto episodio cosa cambierà Potrebbero esserci colpi di scena potrei effettivamente star registrando questa intro dopo aver già registrato il video Ma questo non lo saprete mai guardate il video e scoprite alla fine se è cambiato qualcosa Ora vi invito a lasciare un like e gustatevi il video e ci becchiamo stasera alle 18 con un altro video Bella Ok ragazzi siamo pronti con questa quarta giornata del campionato l'ultimo gruppo appunto che mancava ragazzi salutate tutti Bella Ciao ragazzi Siamo appunto su VO3PC e oggi faremo appunto il minigioco che vi ho spiegato nella intro come vedete hanno tutti i nomi del proprio team nella tagline Quindi potete capire appunto a che squadra appartengono Ci sono i rossi che purtroppo sono ancora a 0 punti quindi mi sa che dovete dare un po' una svegliata ragazzi anche se so che non è colpa vostra Che non avete ancora giocato però Allora adesso avete esattamente 30 secondi di cronometro che metterò io per nascondervi Dopodiché vengo a prendervi tanto non è nascondino quindi cioè dovete scappare Scegliete la prima classe che è appunto identica alla mia solo che voi potete sentire i miei passi io non posso sentire i vostri Vi ricordo che l'ultimo che rimane in vita appunto può accoltellarmi e regolarmente è quello di Michael Maier in pratica il terzo prende un punto il secondo due il primo ne prende tre Da questo momento avete 30 secondi e se mi uccidete ne beccate 5 cioè se l'ultimo che rimane ne mi uccide ne piglia 5 Troppo sto partendo raga eh Voi non sapete chi sono io sono in mezzo a voi probabilmente Probabilmente sono in mezzo a voi raga io mi guarderei bene attorno Tra poco inizia a uccidervi raga tra poco inizia a uccidervi Si parte Ascoltate bene i passi perché l'unica cosa che avete è per capire chi sono Bully dov'è? Bully dov'è? Già morti Dov'eri? Non te lo dico Troppo bello Che cattolo Ehi La cosa brutta è che l'ultimo che rimane sente i miei passi mentre io non li sento i suoi quindi è vantaggiato Però io faccio così e lo frego Raga ricordatevi che avete le smoke Semi qualche consiglio magari? Hai visto che c'è uno qua sopra furbacchione? Guarda che furbo Vi ricordo che io ho tracciante e voi non ce l'avete Chi è questo qua che continua a fuggire? Chi è questo furbacchione? È Gavis È Gavis Oh cazzo stavo cadendo giù raga Oh Perché hai fatto questa mossa un po' random Gavis? Rimengono 4 Morirete tutti tanto raga lo sapete bene Buono perché il team leggenda ci aveva i big points Gavis purtroppo sei la rovina del team leggenda Vedo che siete fermi perché non vedo passi quindi Immagino che siate tutti fermi Belli camperati È peggio per voi state fermi e quando vi trovo vi ammazzo raga Volevo inizio a dire non avete un po' di scappare Sto camperando parecchio Raga che ansia Oh leopad Vedete raga questo è quello che succede quando Aha ho visto qualcuno dai passi Questo è quello che succede quando state fermi Il mio personaggio è 90 anni si alza in un quarto d'ora Cazzo è finito quello che stavo inseguendo Con la manovra evasiva niente male Quindi ne rimangono 2 no 3 3 ok Faccio valere il mio team Bravo bravo Che raga state camperando brutalmente veramente Uuuuh Dylan Dove corri? Dove corri piccolo Dylan? Ah aspetta ho visto Ho visto dei Ho sentito qualcuno saltare Aspetta aspetta Mi sa che l'ho perso No È andato da queste parti Ehi 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 E' il maestro demone Che sentirei i miei passi Io però non sento i suoi Questo è un grosso problema Perché A me mi ammazza Questo prendimento Sei tranquillo che non sopravvivi Muoviti eh Non stare fermo Non fare il vile Ha giocato i fumi Non so che mi stai aspettando eh Oh se Se Demone Magari un'altra volta ti andrà meglio Però non è questo il giorno Va bene quindi 3 punti A questo In questo momento Per Demone blu 2 per Gioppetto Quindi 5 per il team giallo E chi era l'altro raga? Leopad è possibile? O Dylan Non mi ricordo Dylan quindi un punto per il team verde E ora cambiamo mappa Ok ragazzi Seconda mappa Vediamo un po' come andrà Abbiamo scelto combine Che è molto più piccola Oh ma che palle Ma spondo sempre vicino a te Bully Ragazzi io tra poco parto e ve lo dico Parto uccidere i bulli sono dietro di te No dai ti lascio stare Non voglio essere così stronzo Ti dà un po' di vita Dai Prima mi è passato subito Quindi Quindi Tra poco parto raga Siete psicologicamente pronti Potrei essere in mezzo a voi L'insospettabile E vabbè Il grande Gavis L'orgoglio del team legend E vabbè Sto partendo ragazzi 3 2 1 Via E che su combine non c'è molto Mi spiace Ah raga io vi consiglio Di non mettervi negli angoli Perché Cioè Voi non sapete chi sono io Però io so chi siete voi Quindi Bully Oh Oh mamma mia che aggancio Tipo ti ho preso la cross de muro Ehi Ho fatto una scavalcata tipo Tu che stai venendo in seguito Sappi che tanto sei morto Non so se sei tu però nel dubbio Dylan mi dispiace Rip team verde Di nuovo il team giallo nel podio Comunque grande In giallo e Quanti che rimangono 3 Non le ho fatto Io sto zappando la vigna Demone senti dei passi Demone Vi senti questi passi E' il passo della morte Ciao demone Porco il digi Ciao demone Oh Mi sa che solo uno Si salva Guardano Guardano Uno Eh vabbè E rimane solo Geppetto Comunque il team giallo Tutti i due Primo e secondo Di nuovo Stai big point Vediamo se Oh oh Cazzo Oh Mamma mia Questa è stata velocissima Bella lì Micchia Team giallo si porta a casa 10 punti A sta giornata Chi era il terzo raga Leopad Si Mamma mia Leopad porta a casa il primo punto di tutto il campionato del team rosso Primo punto Un applauso Primo punto Palla al centro Vabbè Vedremo la prossima giornata Come cosa cambierà Ecco Ragazzi Salutati tutti Bella Ciao Ciao Bella